Alti piani Montevaccino Se i gialloblu vogliono puntare ai playoff, devono fare più punti possibile in questi ultimi due turni a partire da questa trasferta. I locali però nelle ultime giornate stanno crescendo molto e vorranno dimostrarlo sul campo. Dopo la schiacciante vittoria interna, gli ospiti hanno raggiunto proprio la squadra di casa al quinto posto e vogliono vincere questo sconto diretto. Riuscirà il Volga ad ascoltare il proprio terreno e fare meglio dell'ultima giornata? Calisio Premiero Il pareggio non preventivato dei Grigiorossi ha complicato la lotta in vetta, quindi in questo turno è vietato sbagliare ancora. I primi roti però sono in piena lotta a playoff e non sono disposti a perdere altri punti per strada. Invicta Duomo oltre Persina Il big match si prospetta molto interessante perché la capolista ha ripreso le distanze in vetta, mentre gli ospiti hanno vinto il derby e sperano di rientrare nella lotta per il titolo. Prepariamoci a 90 minuti di pura battaglia. Roncegno Calavino I padroni di casa sono esaltati dalla vittoria del derby e vogliono cercare il sorpasso sui rossoneri partiti bene ma poi crollati con il passare delle giornate. Partita che assomiglia molto all'ultimo treno per i playoff. Tesino Val Sugana I gialloverdi devono affrontare il secondo derby consecutivo con la voglia di riscattare l'ultima sconfitta, mentre i locali sono redici da una debacle che potrebbe condizionare la prestazione. Chi troverà una reazione d'orgoglio? Vigolana Sopramonte Nonostante una grande prestazione, i bianco-blu non sono riusciti a evitare la sconfitta e vogliono riscattarsi, ma gli ospiti vogliono cercare la seconda vittoria dopo l'impresa sfiorata con il Calisio. Partita che promette un bello spettacolo. Partita che promette un bello spettacolo.